Il fidarsi deve riguardare il presente, che ti fa dire sì, faccio o non faccio. Ma se lanci la fiducia sul domani, un domani è un futuro di lunga gittata, sì, lo puoi fare, ma chi conosce il futuro? Nemmeno la persona con cui tu andrai a contrarre un rapporto. Oggi c'è un bel tema, un altro bel tema, non so come verrà preso da voi, ma il tema è fidarsi del prossimo o non fidarsi del prossimo? Io direi né non fidarsi né fidarsi. La posizione, sai, in medio, virtus, da tempo, da epoca platonica, già abbiamo imparato questo, che nel centro, nella posizione centrale, quindi una posizione alternativa ad ognuna delle due posizioni estreme, laterali, che sono entrambe viziose, se vogliamo, entrambe impostate male. Ma le persone perché eccedono nell'aver bisogno di fidarsi? Perché sono attratte, sono magnetizzate, vanno in cerca di qualcuno di cui fidarsi? Perché fanno un errore precedente che li espone poi a far nascere questo desiderio e ad esaltare il valore del soddisfare il desiderio incontrando e sapendo riconoscere la persona di cui fidarsi? Il primo errore di base è che noi spostiamo all'esterno la fonte della nostra tranquillità, della nostra pace, anche del nostro benessere, e mettiamoci pure della nostra allegria e in qualche momento anche di gioia. Va bene? Benessere, pace, allegria, gioia sono endogene. Endogene, endogene, vengono dall'interno. Nessuno da fuori può apportare qualcosa di significativo, fare una differenza drammatica, di valore drammatico. Non lo possono fare perché se noi abbiamo già, possiamo dire, il mondo nostro interno già bello pieno, possiamo dire, usiamo l'esempio, la metafora di un liquido, se il serbatoio di benzina o d'acqua è pieno, chi può riempirlo di più ancora? Nessuno. Allora, se io faccio l'errore, mi credo ad un animaletto bisognoso del becchime, capite, del pasto non fisico, ma mentale. Se io mi convino, non so, ignoro, che tutte le cose più importanti che viverò e sperimenterò, oggi e nei giorni futuri, dipenderanno da fattori interni, da qualcosa che è dentro di me. Allora, se io non so questo, spesso non saprò nemmeno come creare condizioni buone, perché questi fattori mi assicurino sempre un bel galleggiamento, una bella energia, una bella pienezza, con tutte le qualità anche dei sentimenti, delle attrazioni, dell'efficienza, della limpidezza e anche del senso di, come posso dire, anche di dignità. Perché diciamo così, che quando le cose all'interno stanno al posto giusto, c'è anche un intuitivo senso della mia dignità, che non metterò a repentaglio giocandolo alla roulette con qualcuno. Capite, amici del canale, voi siete come Antonino o meglio, Antonino non ha niente di più, ha solo, è stato innamorato per tanto tempo soltanto del cercare di imparare delle cose, che adesso però ve le vuole dare tutte. E voi non avete nessun impedimento a prenderle per intero. Ok, allora, fidarmi dell'altro, se io prendo in esame anche questa differenza tra questi due verbi diversi, mi fido o non mi fido, che vuol dire? Che se io li uso spesso, li penso spesso, mi comporto di conseguenza sorvegliando, guardando, cercando di imparare, di misurare, di valutare se una persona è affidabile o non è affidabile, se posso fidarmi, se posso riaprire quella porta al rischio, riaprire quella storia, se posso riprovarci, se posso, se posso. attenzione, già siete andati avanti nella carriera della dipendenza dal prossimo, della dipendenza dal bene che l'altro porterà, il bene che l'altro ci porterà. Per l'amor di Dio, Antonino se lo prende tutto, mamma mia come mi prendo bene io, io non scarto niente, a me piace tutto, tutto, la realtà è stupenda e ha tante cose, quindi nessun pregiudizio, non stiamo parlando male del prossimo, non stiamo parlando male di uno che si comporta in un modo, si comporta in un altro, no, noi dovremmo imparare che non abbiamo così tanto bisogno di quella, quello che lui potrà portarci con attenzione a noi, rispetto di noi, amore verso di noi, amore verso i nostri figli, che faremo con lui, amore per la nostra vita insieme, ecco, ok, benissimo, ma quello che lui porta rimarrà bello, ma sarà, come posso dire, sovrabbondante, su un'abbondanza che noi già possediamo da soli, ok, questo è, non c'è da aggiungere tanto, chi vuole intendere, lo intende, come l'ho spiegato, ma il concetto di fiducia sempre per la vita e per la morte, quando devi proteggere la tua vita, da malfattori, da ladri, non so, da assassini, non so così, da, anche da soci disonesti, puoi dire, sì, vado avanti, procedo, in qualche modo, presuppone che io in qualche modo non credo che mi stia rubando, che non mi stia imbrogliando. Nella vita di relazione, nella vita di relazione, non possiamo trasferire categorie come queste, perché, a parte che le relazioni nascono e possono essere interrotte, quindi non è che io devo sapere prima se lui si comporterà bene, certo, alcuni segni, grossolani, li posso, già mi possono avvertire, e mi possono scoraggiare dal procedere in qualche cosa, no? Abbiamo detto anche in altre occasioni che la vita di relazione è un rischio continuo. Ecco, ho usato la stessa frase di un altro filmato, che deve essere adutrunque paratus, io devo essere preparato, perché potrà avvenire questo e potrà avvenire altro. Non possono essere esaltate queste categorie, queste servono per protezioni materiali, protezioni materiali, o per la difesa della vita. Io penso che si riesce a capire se noi vediamo che fidarsi e non fidarsi sono congiunti indissolubilmente, perché nel momento in cui mi fido io mi espongo, comunque sono esposto a rischi. Nel momento in cui io decido di fidarmi, non è che a quel punto io divento Superman e quindi invulnerabile a qualsiasi azione possa fare l'altro. Diciamo che sarò esposto a dei rischi, immaginiamo, costruisco un rapporto d'amore? Benissimo. È implicito che io, non dico che mi fidi, il fidarsi, il fidarsi deve riguardare il presente che ti fa dire sì, faccio o non faccio. Ma se lanci la fiducia sul domani, un domani è un futuro di lunga gittata, sì, lo puoi fare, ma chi conosce il futuro? Nemmeno la persona con cui tu andrai a contrarre un rapporto, capisci? Sia esso d'amore, sia esso di collaborazione di lavoro, di qualunque tipo. Voglio dire, è ingenuo e pleonastico, vuol dire che non serve a nulla scegliere se fidarsi o non fidarsi, perché tanto non influenzerà per niente il futuro. Cioè, non serve, è irrilevante. Io non devo decidere di fidarmi o non fidarsi. Certo, per il momento sì, che fa? Accetto l'invito, andiamo a prendere questo pé al Bebinton, così, oppure andiamo al cinema, non so, andiamo, passiamo una serata insieme o qualcosa di più. Questo, ovviamente noi dobbiamo fare le nostre scelte, agiremo, indubbiamente, non è che lo lasceremo così, secondo delle valutazioni intuitive, così, oppure intuitive e razionali, con l'aiuto della ragione, con la conferma della ragione, ma nessuno ti dirà cosa avverrà. Ti voglio dire, io vorrei anche aggiungere, non lo voglio nemmeno sapere quello che avverrà, perché è più bello, sia quando si presenta in un modo, sia nell'altro. Io voglio essere aperto, voglio essere integro, non voglio spartire, violentemente separare il mondo in nero e bianco, oppure inconveniente, non conveniente, positivo o negativo, no, lo voglio intero il mondo, con tutte le possibilità. Io non ho il timore di ciò che tu farai, non lo temo. Vorrà dire che io rivolgerò la mia attenzione altrove. Beh, può essere anche bello, che noi andiamo a una sterzata, una girata e andiamo via in un altro quartiere della vita, in un'altra stagione della vita. Mi va bene, preferisco questo a ingenue separazioni che sono ingenue, attenzione, ma anche violente, perché preparano la mia pretesa. Mi sono fidato, adesso tu sta attento a quello che fai. Che devi stare un po' attento, è vero, perché un Antonino, un Antonino, due o tre volte la stessa cosa non gliela fai. Io non ho problemi di separazione, di ansia di separazione e di allontanamento, per cui io guardo le persone, come si comportano, ma poi mi fanno piacere comunque averli nei pressi o più ravvicinate o meno ravvicinate, ma non farò mai tragedie con nessuno. Per nessuno, con nessuno, perché nessuno merita tragedie. a Grazie a tutti.